oggi vi voglio presentare anche i miei piombi ne abbiamo due in line e due terminali questo è il mio favorito per la pesca nel canale migliano in quanto nelle sponde cementate spesso si vedono le partenze quindi ho esigenza che il piombo non rotoli nel fondo del canale stessa cosa vale per questo anche questo 100 grammi in quanto ritengo importante il peso per una buona auto ferrata abbiamo poi un 100 grammi a goccia che un altro 100 grammi sempre terminale spesso usato anche per fare il riga elicottero che io prendi grazie